C'è D'Alema che minazza di tagliarsi i baffi se Berlusconi si fa crescere i cappelli? Eh no, lo so, ma è Marina Riva di Meana che si deve tagliare i baffi, perché ultimamente ho visto che con le peluri è molto aumentata, ma non so se lei ha visto quel manifesto con quella patonza di 4,40 m, uno si trova tra l'altro, uno cammina per strada e vede una patonza di 4,40 m, ho visto gente che è rimasta fissa, ma amma li turchi, perché si rimane un pochino, ma io ho incontrato solo minorata in vita mia, ma contro le pellicce, io l'unica pelliccia che indosso, adesso la fa pure Ripa di Meana, il marito contro la caccia con il pisello di 2,80 m, lasciate vivo almeno questo uccello, una cosetta delicata.